Bueno, pues, aquí estamos en esta muestra de la fotografía de Instagram. Vemos a toda la gente, estos son los Instagrammers de Ferrara. Vamos a dar una vuelta a ver qué tal. Sono qui, sono un intruso al evento de Instagrammer. Seguite la nostra pagina Facebook, Algas Ferrara, oppure nuestro perfil Instagram. E poi scantate anche voi, tantissime foto. È una muestra fotografica, uno scatti tratti da Ferrara, la provincia di Ferrara. Fotografici sono i follower del nostro community, che è Aigas Ferrara. Hola! Esto va direttamente a México. Todo bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias de todo. Raccontami un po' de la mostra. Allora, la nostra mostra si divide in 4 categorías, che sono le categorías, praticamente, delle nostre rubriche settimanali. Quindi abbiamo la quotidianità, quindi quello che accade tutti i giorni a Ferrara. Abbiamo il bianco e nero, che tira sempre molto, black and white. Noi abbiamo la provincia, quindi quello che non è Ferrara, ma il surrounding di Ferrara. Abbiamo il tema libero, il tema libero è quello che noi di Aigas Ferrara decidiamo, decidiamo, un murale, un piatto della cucina, un paesaggio particolare. Lo scegliamo, lo smettiamo. Siamo internazionali. Questa è uno spagnolo terralese. Sono io. Quindi lei è una ragazza antisocia, che però va a finire un video in Messico di Ferrara. Come dice? Ella è un'amica mia, si chiama Sara, te la presento. Ella è un Instagrammer molto famoso di Ferrara. Padrissima la muestra, sta super, super padre. Ella è una volta, sta chiquita, però sta molto interessante. Eccovi! Grazie mille, grazie a te, grazie a te, vi vediamo il video più presto in altri giorni. Grazie ragazzi, ciao a tutti, ciao!